È bastato qualche temporale per passare dall'estate al pieno inverno perlomeno in alta valtellina. Questa mattina Livigno si è infatti svegliata con la neve e temperature molto vicine allo zero termico, un brusco calo rispetto ai 25 gradi di qualche giorno fa. Proprio a causa delle inaspettate precipitazioni nevose di forte intensità, il passo Forcola è stato repentinamente chiuso nella serata di mercoledì 13 luglio per essere riaperto alle 8 di questa mattina. Inbiancato anche il Foscagno rimasto sempre percorribile. Anche in media bassa valtellina i fiocchi hanno spolverato le cime lasciando però spazio soprattutto a piogge temporali e folate di vento forte che hanno causato la caduta di molti rami sulle strade che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco chiamati anche in Val Chiaverna per un incendio divampato in una baita sul monte Cigolino nel comune di San Giacomo Filippo a mille metri di quota generato da un fulmine abbattutosi sull'edificio vuoto andato completamente bruciato. Questo è il danno più grave causato dalle numerose saette cadute sulla zona che avrebbero generato guasti anche ad alcuni impianti di comunicazione. Domani resisterà il cielo sereno però Val Chiaverna e Alta Valtellina saranno attraversate ancora da pericolose raffiche di vento forte. Per il fine settimana ormai alle porte le previsioni annunciano bel tempo e temperatura in risalita cosa che fa ben sperare per un ritorno di questa estate intermittente sulla nostra provincia.